Salve a tutti ragazzi Bella Ieri avete visto l'episodio Tutto ipervelocizzato Madonna cara C'è sempre un fottutissimo problemino Ogni volta che si fa qualcosa di buono Mi da un po' un pastino E ho avuto problemi con il microfono Scusate Però abbiamo anche bella notizia Se avete visto quell'episodio Avete notato che qualcosa di bello abbiamo fatto Una volta che facevamo qualcosa E' un cazzo di episodio Io ho trovato un pozzo di petrolio Sono andato fino laggiù E abbiamo messo una pompa Adesso io mi occuperò Di creare un bel tancone Dove mettere il petrolio E te lo fai Uno scheletro non mi piace No buono Poi abbiamo fatto il casone Non so chi l'ha visto Comunque lo faccio vedere di sfuggita E il casone Cioè tutto questo coso qua L'abbiamo fatto off camera Giusto perché non abbiamo registrato Per una settimana e mezzo Giusto perché Sì è stato una cosa veloce Infatti Visto che non abbiamo registrato Per una settimana e mezza Siamo finiti giusti giusti Con le registrazioni Quindi Ieri è andata persa E siamo ritrovati a fare Un sacco di cose All'ultimo momento Morale della paura Adesso Tocca di ricominciare Di strappare La mega velocità Allora Qui Presso il playtto invisibile D'ossidiana sinistra Si apre tutto Presso il playtto Si Schiude tutto Si apre tutto Sì qua Siamo semplici Fornaci d'oro Semplici Non so simbatico Simbatico Qui Alberto Ho fatto pure La La L'enchantment Table Ah beh si Crattata L'enchantment Table Ecco un'altra cosa Importante Mi sono incantato Pure L'armatura di diamante Però questo mi ha detto Ma ha sputato Sopra l'armatura di diamante Mi ha fatto fare Sta cazzo Nanno su tutto Ecco Sputa Puto puto Qui c'è L'autocrafting Degli advanced Dalloi Ma alla fine Uno ci fa Le carbon Usa il compressor Insomma Qui sopra invece C'è la vera Di mora Con Qui l'autocrafting Del Arnold Glass Che ha voluto fare lui Perché C'è sta sto cazzo De cosa De pannello De vetro Vabbè Sì è fighissimo Ragazzi scrivete nei commenti Che ne pensate A proposito Ma io continuo A leggere i commenti C'è certa gente Che mi fa proprio Mi fa infervorare Questi qua Che sono tanto contenti Noi che facciamo i video Mi piace un casino Sta cosa Sì Pure a me Ti senti proprio Realizzato Vuol dire che qualcuno Ti guarda L'ascolta E ti piace Pelo che fai Grande Sam Dico Nomina un'altra volta Gli viene un infarto L'ultima volta Che l'abbiamo nominato in un video Ha fatto tipo Oddio Che figata Sì vabbè Però era C'è una cosa Per farci contento Più a noi Penso Sì Penso di sì Ma infatti Ci hai riuscito Perché a me Ha fatto contentissimo Ci hai riuscito Alla grande Comunque Sto Fabricator Io direi Di piazzarlo Giusto Giusto Dritto Senti Giusto Giusto Do cazzo Ma Che tese Hai fottuto Il drill mio No L'hai lasciato In carica Forse Oh Può essere Ok Guarda Quanto fa lento Senza Oh Ma noi abbiamo Tipo Troppa Cobbleson È ora Di Utilizzarti Ce l'hai Certo Ok Stava in comodino Comunque Che cosa Questo Aspetta Sappiamo un po' De cobbleson Questo No Fì 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 Mi hai fatto Pia la terra Sto Schifo Ah Ma in effetti Va bene Pure la terra Ok Allora Un altro po' Perché Uno Due Tre Quattro Un altro Abbiamo quasi finito Qua sotto Ma di che Che si fa Tank sotterraneo Tank Ah Oh C'è sta Una di quelle cose Tipo cabbia Cazzo ma non ci fa Sta roba Oh merda Ah è vero Che ci va dentro Il Cosa per la Yu Yu Matter Beh vedi un attimo Sulla wiki Ma perché devo sempre Guardare io sulle wiki Perché non sei tu Che registri il video Se poi ti Te li fai tu 190 giga Di roba ogni volta Va bene Va bene Va bene Mi arrendo Io mi sono rimasti 8 su pc Ecco Tutti Devo Andiamo No 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 Saltiamo sto particolare Va bene Allora Sotto testa ragazzo Ah pure Mas Brigator Direi Di C'era il tipo Le charge Pad La più schifosa E' la static Vabbè Questa è come se Crafta Crystalizer Che coglione Devevo scrivere Yu Yu Matter Vabbè Vabbè Sopra Che dovevo cercarti Il mass fabricator Eh che cosa devo cercare Niente Giusto il mass fabricator Che vuoi il mass fabricator Eh come come si alimenta Cioè come si fa Fandà più veloce Oltre a Cioè non mi dica Che c'è solo il recycler Perché sennò Veramente mi sparo in bocca The mass fabricator Is an advanced machine Requires more touch Poi gliene servono Di euro Per generare la matter Eh Conta che la staggierneriamo Eh It is a considerably High cost Piece of technology That is capable Of producing matter This material In return Is a Pop All over Creating almost everything In mind It itself Eh With Expansion So Ok Bla 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 Scrub Will General Increase Speed Scrub Che cazzo Di Scrub Scrub Lo Scrub Ah Recycler Eh Recycler Eh Cazzo E' l'unica cosa Che lo fa andare più veloce A quanto pare No Vabbè comunque No By six times Scrub is consumed In the process It's all Three Thirty four scrubs In the internet Scrub Trusione Fabbri Constantly You need One Recycler For Eh Oh Merda Vabbè Allora C'è Sti Cazzi Eh Current In this Terraform Si solo Quello Attacchi al Cazzo Ciccio Vabbè Mi fai Un MFE Faccio Una cosa Fighissima Ma Scusa Io starei A fare Un Tancone MFE Non ce l'ho Niente Ti do Già Un bel Pezzettino Da fare Tutto Grande Allora Mi serve Mi serve Tank La faccio Di Iron O Di Cosa Di Come Te pare Sappi Che Di Iron E' Meno Debole Però Per Farlo De Steal Fermo Non ce l'ho Nel che Perché Abbiamo L'equivalent Exchange Con Al Minimum Storm Lo posso Pure Fare Fai Come Vuoi Come Te la Senti Dipende Quanto Lo devi Fa Grande Sto Tanc Quanto Spazio C'hai Allora Ma Tanto Non è Che Va Se Fa Un Antrotank Non è Un problema Si E quanto Spazio C'hai C'ho Tutto Il Sottosuolo Allora No Fallo De Iron Allora Rolling Machine Ce l'hiamo Qua C'ha Sacco Fuori No Dentro Casa E' Vero Eccola Uh Cazzo E' Vero Allora Sterling Engine Allora Mi servono Solo Questi Ce l'hiamo Da Rubber Non lo so Uno Solo Ce ne abbiamo pure altro Dai Che ne so No No Non è possibile Però No Non può Andavanti così Oh L'altra Ce l'hiamo Una roba Sì Sì No No Sì Boh Vaffanculo Ah Poi Da sparassi Mi faccio Un tridap Ci vorrà una vita De sto passo Ora Intanto Te faccio Stem Fese Non l'hai già fatto No Non l'ho già fatto Allora Il vero Redstone E i diamanti Diamanti Vabbè Mortacci Diamanti Eh Non abbiamo presi Gli ultimi Giusto per Oddio L'amerosissima L'amerosissima Tanto Provi Ma Tanto 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 L'amerosissima C'è abbiamo quella Della Bislazzo Di De Canna Però Ha una sola Vabbè Le canne Che cazzo C'entrano le canne Che cazzo c'entrano le canne Che pedofili Va bene De un uomo di tutti Ah bravo Adesso mi date gli iscritti Se ne va Eh Adesso mi date gli iscritti Magari se ne va Che ne sai Ma manco per Cioè Se si sopperti Oh vabbè Oh buono 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 Sto a scherzare È un umorismo Un po' macabro Ma lo sto a scherzare Un po' macabro Un po' macabro Senti Ciccioli Dammi Il cristallo Che t'ho fatto Che tu ho dato Manco morto E io non ti faccio l'MF Va bene Uno te lo do Tie Alza Allora Ci vuole Uno qua Uno Cazzo però Tata L'altro ci voleva Per far staffare Vediamo un po' MF Le Ah Guarda qua che c'è in mano Questo non c'è un cazzo Questo non c'è un cazzo Lo che c'è in mano Che è Ah Figo Bene Di glowstone Questa è Vabbè che tipo ci vuole un macello di glowstone Per farla Quindi penso che siano abbastanza preziose Però questa qua è la nostra salvezza per la redstone È vero C'hai ragione A proposito L'ho L'ho Un po' finita Sono rimasti solo quattro cose Eh lo so Lo so Almeno con quella là Ce l'abbiamo quasi infinita La vislazzuli e glowstone ho messo Appena si fanno tutte Ok la rubber Io posso usare la cosa C'è la troia Io lo so Sai Ah che C'è il posto di questa rubber Posso usare l'altra rubber Cioè sono tutte uguali oppure no Dipende per fare cosa Comunque penso che te la faccio usare uguale Perché basta che il nome sia rubber Stai a posto Ma tu ce l'hai No è rubber bar E se devi usare rubber bar Devi usare forse rubber bar No devo usare le rubber Invece là c'è il rubber bar Io c'ho le rubber bar Eh allora Estrai del rubber wood Eh ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Devi Oh Devi andare a tagliare qualche alberetto Questa qua fuori Ma non si piglia il rubber Così però Vabbè Questa Vado nella palude L'avevo visti là Vedi a quanto sta il mass fabricator Dove sta? È attaccato al Batbox Ah Cazzo ha messo questa Sta a due Due Juju Matter? Sì Dai non va malissimo alla fin fine No No non va malissimo alla fin fine C'è solo un problema Qual è? Io devo andare a cagare Che devi fa? Cacchina Che palle Ho capito Io la faccio la sera Vabbè vabbè Ok allora mi faccio La metà No Devo aspettare purtroppo No vabbè Se vuoi andare Ma la faccio Cioè se ti sbrighi C'è rovo Vabbè Io intanto Devo fare Advanced Machine Block Che ho fatto Certo che sfiga Eh sfiga sì Ma che cazzo vuoi? Questo è il tempo che ci abbiamo Che sfiga Poi dobbiamo fare Tutti i viali Che portano Tutte le strade Senti il tuo MF Sta sulla Project Workbench Io torno fra 5 minuti Sì Ma proprio 5 Sì veloce Cronometra Orca froia Sto cazzo Allora Noi ci abbiamo tutto Mo facciamo una cosa Proprio fega Foga fega Allora Rubber Rubber MF Questo Questo E questo Crystalizer Mo vediamo subito Come funziona Allora La dobbiamo collegare A una fonte Elettrica Porca troia Quindi Qui abbiamo l'MF Con l'uscita là Facciamo Uno è stupido Forte no? È stupido Punto Punto è stupido E basta Oh no Allora Almeno ne spreco uno De meno Ok allora Ma no Invece io no Io ne spreco poco tanti La voglio mettere giù 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 Nel mare blu Allora Eh Toggo pure questo E faccio Ta Ta E Si Ta Qui sopra ci mettiamo questo Che mo Vediamo subito Come funziona Ehm Olè Ecco qua Allora Mettiamoci sopra Vediamo che qui L'energia si sta accumulando Fino a 60.000 Che è l'MF Praticamente Qui abbiamo Vari Ehm Vari Ehm Vari Vari potenziamenti Ora mi si sta caricando Tutto Vediamo un po' Che upgrade ci sono E se li possiamo fare Allora Upgrade Non mi ricordo quali erano Ah ecco Efficiency upgrade Vediamo se lo possiamo fare Eh si Ok Ehm Si 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 può fare Allora Ehm Prima di tutto ci serve Un Advanced circuit No Magari lo facciamo più Vabbè dai Su 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 Sto giro Vado E se non c'è Alberto Ehm Tatatata Tata Famosi Sto circuit Ecco qua Ah Meglio Ma già hai fatto Adesso ci ho messo 5 minuti Un razzo Un La Che va più veloce Di tutto il farware Madonna Rispondiamo a una ragazza Buonotte Ciao Una ragazza a casa Tipo la tua ragazza Vabbè Ma è cazzi tua Tipo No 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 Lo deve sapere tutto youtube Allora Che hai visto Tutto youtube lo deve sapere Eh se tipo Te lo sapiamo l'MFE Sì Guarda faccio un regalino Ma hai visto che cazzo c'è là Come faccio L'hai visto sì o no che cazzo c'è là Sì c'è C'è un'unica cosa dove ti dice Sì ed te sei caricato la roba Bravo E ora sto a fare l'upgrade Perché non sono mai contento Come si fa la battery Con del tin Della redstone Uh 36 iron plate Mi ha fatto Grande Te amo Dicevo Tin Redstone E poi ti serve anche del coso Del Un cazzo Si chiama Non lo ricordo Vabbè Tin Copper cable Copper cable Allora la tin ce l'abbiamo Ci vogliono 4 pezzi di tin Dingot intendo E ne devo fare 2 Quindi 8 Giusto? Non so quanti cazzo ne devi fare Beh io Le Ho potuto Allora aspetta Batti Allora Tin tin Redstone Redstone Copper cable Copper cable Subito subito Ta 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 E ci siamo Uno due Poi Redstone Ce l'abbiamo Manca il tin Eccolo qua E ce ne abbiamo una Qui c'ho solo 3 pezzi di tin No no Questa è proprio sfiga Qua quanti sono? 6 7 Ne serve un altro Non ci posso vedere Allora 8 Iron Tank wall Un altro 8 Iron Tank wall Favamo un altro 16 Iron Tank wall E poi stiamo a posto Allora Quelli Devo momentaneamente Togliere Vale Uno Oddio Speriamo che sono compatibili Sì E dai Allora ta ta Poi Questo Avevamo detto Quei cosi che Non ho fatto Non mi ricordo Mai un cazzo Upgrade Se diventa vecchio Il bello Sei già vecchio Cioè sei nato vecchio Non è vero Ok Un po' bambino Sei se freghi Ma la mamma Mi ha detto No Come devono essere cariche Ma porca Madonna Si è sentito? No Non si è sentito Te lo dico io Eh dai su Devi mettere un altro beep No Oh che figo Cambia anche l'immagine Se Mi sa che mettevi Altri Iron Plate Cincio bello Dai io qua Ti metto un bel po' Di Iron Hai Ingo Te Tanti Ok allora 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 poi Questo Vediamo se muova Ole Efficiency upgrade Ora Lo andiamo a piazzare Qui E ricaricherà più in fretta Vabbè Per fare un esempio Volo sul tetto Yeah Quanto Due No Cinque 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 Comunque fa subito Regà Perfetto Mo' ci abbiamo pure la Searching Così Ci ricarichiamo tutti Senza che Ci succede nulla Ok Che cazzo hai detto Mo' ci abbiamo la La tavola Tu ci vai sopra E' andata E' fatto Ah Bene Io se faccio così Questa si ricarica Oh Che figata E fa pure molto veloce Hai trovato altri level Lì? Ma ero Anticio cowboy Inutili poi Ma li ucciderei tutti No No Che cosa sono diventato Sono un mostro Mamma mia Ma caricato tutto O meno quello che volevo Veramente caricare Il jetpack Sì Vabbè Quello è la best Che ti tiene un po' di più Si vede che era più scarico Del resto Ripara Player level 90 Repair cost 0 Ah Perché è di bronzo Vaffanculo No Allora non ti ripara Intanto Mi creo Le mie Tank wall La spada di bronzo Sì Ma nella stanza segreta Che ci vuoi mettere Che ci vuoi mettere No Vabbè Vabbè Mamma mia Quanto cazzo è forte Sta spada Abbiamo fatto una spada Assurda Ok Aspetta un attimo Come devo rompere i giorni Questi Alberto Oggi è rottor Cazzo Allora non ti ripara 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 Allora non ti ripara